Un'anima moderata e centrista per la destra italiana si presenta così a Napoli, noi moderati, lista creata dalla sinergia tra Giovanni Totti, Luigi Brugnaro, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. Ed è stato proprio il leader del gruppo Maurizio Lupi a fare tappa questa mattina a Napoli, con lui i candidati della lista a Camera e Senato. Ascoltiamo. La politica deve tornare ad avere un rapporto molto forte con il proprio territorio e la politica è rappresentanza degli interessi del territorio, il Parlamento deve ritornare ad essere questo. La lista noi moderati nella coalizione del centro-destra che si propone di governare l'Italia fino al 2027 porta esattamente questo contributo, concretezza, serietà, responsabilità, affidabilità. I programmi sono condivisi, la persona al centro, l'impresa, piccola, media è grande, che è il soggetto che dà il lavoro, l'aiuto a chi è rimasto indietro. Noi crediamo nel libero mercato, ma crediamo anche nella giustizia e nell'equità sociale. L'evento, che si è focalizzato sulle esigenze del territorio napoletano, è stato l'occasione di incontro per i candidati presenti alle prossime elezioni del 25 settembre. Tra questi, Barbara Ricci, candidata al Collegio Plurinominale Campania 1, che ha sottolineato la necessità di mantenere il reddito di cittadinanza per chi ne ha realmente bisogno, con l'esigenza però di introdurre i giovani nel mondo del lavoro. Ascoltiamo. Un altro argomento che mi interessa sono per i giovani che non hanno lavoro, che vogliono più istruzione, vogliono più formazioni e non vogliono assistenzialismo, tipo il reddito di cittadinanza, che comunque va bene, ma per chi veramente è disagiato e chi veramente non può lavorare, ma per i ragazzi che hanno 20 anni, 25, 18, 17, hanno bisogno di essere spinti nel mondo del lavoro, altrimenti si perdono e non possono affacciarsi alle finestre della vita.